LOS ANGELES LOS ANGELES Los Angeles fa pensare a Hollywood. È il cuore pulsante di questa città. Gli agenti videro Phil Spector alla finestra. Videro una donna su una sedia, ovviamente morta. Non era un incidente. Kevin Smith era un dirigente della Fox. Vide quello che sembrava un corpo avvolto nelle lenzuola sul lato del passeggero. Mai mi sarei immaginata che potesse accadere una cosa simile. Mickey Thompson era una leggenda. La moglie era scomparsa e lui andava in giro cercando di limorchiare. Che stava succedendo? Il vuoto di mia madre non è mai stato colmato. Un lavoro in costante contatto con la morte ha il suo costo. Alcuni processi di rilievo hanno luogo a Los Angeles. Tutti sono fieri di lavorare alla omicidi. Serve dedizione e senso del dovere. Volevamo assicurarci che fosse fatta giustizia. Volevamo assicurarci che fosse fatta giustizia. Volevamo assicurarci che fosse fatta giustizia. Volevamo assicurarci che fosse fatta giustizia.